Occorrono 28.000 euro di extra per il senso unico di via del centenario. Nei giorni scorsi il dirigente tecnico Carmine Salerno ha dato il via libera ai lavori che servono a consentire il doppio senso sul ponte della discordia, da mesi cantiere di opere pubbliche per cercare di attenuare il rischio idrogeologico di esondazione del fiume Tusciano. A Palazzo di Città la scorsa settimana avevano emanato l'ordinanza di ripristino del doppio senso, vista anche la repertura delle scuole, ma tale atto è subordinato all'emissione da parte del direttore dei lavori di una specifica attestazione riguardante l'avvenuta esecuzione delle opere che servono per poter istituire il doppio senso. Insomma si dovrà adeguare anche segnaletiche oltre ad ampliare la carreggiata. Pertanto il comune ha recuperato altri 28.000 euro dal fondo delle economie di gara. Il tutto a pochi giorni dalla riapertura delle scuole occorre intervenire ed in tempi rapidi.